Presentato davanti a un folto pubblico di stakeholders nell'elegante sala convegni dell'Hotel Bristol, il progetto Road to Summer 2023 per mettere a conoscenza del mondo dell'hotellerie nuovi modi accattivanti, moderni, speedy di attrarre prenotazioni. Il tema vacanza per una destinazione turistica come sottomarina con la sua declinazione balneare e chioggia con la sua vocazione storica e artistica è un tema fondamentale e chi lavora, investe e vive nel settore turistico deve mettere in tavola tutte le opportunità perché la sua attività possa dare il massimo. L'azienda che si è presentata da oltre 20 anni nel settore è di Tanca, specializzata nel soddisfare le esigenze digitali del settore dell'hospitality. L'incontro, promosso dal Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia, da Asa e da Federalberghi, da Cisa Camping e dalla Regione Veneto, è stato presentato da un brave intervento di Giuliano Bosco, lo Presidente Asa. Potete vedere una sezione dell'intervento di questa mattina sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. Allora, siamo alla Cama, per scherzare la Cama qua ai saloni e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa a pulizia. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 66 98 158. Vi ricordiamo che venire qui in pesce è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi evitate qualsiasi tipo di stress.